Salve, per la rubrica creatore e creazione, oggi parleremo di una beata e per la chiesa anglicana e santa, parliamo appunto di Giuliana da Norwich, questa mistica vissuta molti secoli fa, intorno al 1300, e che ha avuto così la nomea di essere la santa dell'amore, viveva nella gioia della Santissima Trinità, la inseriamo in questa rubrica perché lei è quella testimonia che ci fa capire che Gesù, ciò che costruisce, ha un inizio ma non ha mai una fine, e per molti di noi che hanno quel dubbio in cui la creazione poi avrà un proseguimento nella vita eterna, per molti non è così perché vi è una differenza tra spirito ed anima, quindi gli animali non sono destinati, la creazione in quanto tutti gli esseri vegetali non hanno senso in un paradiso, ma lo stesso creatore quando maledirà il fico dirà non darai più frutti per la vita eterna, quindi il creatore si rapporta anche nel Vangelo, nel Santo Vangelo con la verità, quella verità che lui vuole e lui crea perché le cose non abbiano un fine. Ma partiamo da questi due pensieri che ci fanno capire che Gesù è grande ed è unico, Dio, immenso Dio, che realmente lui non è come noi umani, che abbiamo una percezione che le cose possono iniziare, che è davvero un termine, per lui nulla è con la parola fine. L'eternità ci fa appunto capire questo, Gesù crea e non distrugge, chi distrugge è solo l'uomo. Ascoltiamo questi due pensieri e poi ne mediteremo insieme. Il primo pensiero della Beata è questo, Dio ha creato tutte le cose per amore e col medesimo amore le custodisce e le custodirà senza fine. Dio è tutto ciò che è buono e la bontà che tutte le cose hanno è lui. Nel secondo pensiero, tutto ciò che esiste in natura, essendo una creazione divina, ha innate le caratteristiche dell'azione divina. Ecco perché non solo l'opera migliore è compiuta bene, ma anche l'inferiore di pari dignità, ed ogni cosa è ordinata da Dio per l'eternità. Gesù sembrava dirmi, vedi, io sono Dio, sono in ogni cosa, sono l'onnipotente, non ho mai ritirato la mia mano da nessuna delle mie opere, e sarà così sempre. Vedi, conduco ogni cosa al fine che le ho assegnato per l'eternità, con la stessa potenza, la stessa saggezza e lo stesso amore che l'hanno creata. Grazie.